Tu, 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 tu Evviva! Si sta preparando per uscire Chi fa con lei? Viene da questa parte Come si è fatta bene Spero che mi usi per telefonare È proprio una niva Prendi me, prendi me Oh no! Ha scelto ancora lei, la scheda Comodo, eh? Perché è più leggera e dura di più La scheda telefonica, dove vai, dove vuoi La scheda la trovi dappertutto